Era l'11 luglio quando come nel Lulla scomparvero un portavalori contenente 50 kg d'oro ed una guardia giurata della Securpol. Il furgone venne rintracciato poche ore dopo, il vigilante di cui si erano perse le tracce Antonio Di Stazio invece si costituì alcuni giorni dopo per poi essere arrestato con l'accusa di furto aggravato. E dopo l'arresto di Di Stazio il collega che si trovava con lui quel giorno era stato prima sospeso e poi licenziato. Ed adesso per la prima volta sulla vicenda interviene anche Securpol, l'azienda per cui lavoravano i due ormai ex vigilanti. Per la prima volta l'azienda si esprime riguardo al licenziamento del collega di Di Stazio. Sicuramente non ha rispettato le norme di procedure aziendali, questa è una cosa. Poi se sono subentrate anche altre cose, nel frattempo non ne sono a conoscenza. Tutte le valutazioni vengono fatte in base al comportamento, ai rapporti che fa il nostro ufficio sicurezza, tutti i rilevi che vengono fatti, in base anche a quello che hanno rilevato i periodi dell'assicurazione. Questo sommato tutto, alla fine vengono presi poi i provvedimenti verso le guardie per come si sono comportate in servizio. Quali sono le vostre norme di sicurezza per un carico così importante? Spesso e volentieri, quando escono i nostri furgoni, per esempio, devono andare a fare dei servizi, conoscono l'ammontare dei valori, però capita, come in questo caso, che arrivano sul posto e il valore da prelevare è superiore a quanto può essere trasportato con due uomini, con due guardie soltanto. Le guardie, prima di ritirare i valori, chiamano la centrale operativa, chiedono l'appoggio di un altro furgone, quando è arrivato l'altro furgone iniziano l'operazione di carico e scortati da questo automezzo vanno poi a fare lo scarico. In questo caso non si è verificato chiaramente perché c'era un dolo da parte di una delle due guardie che poi si sa che è scappata. E l'altra guardia, perché uno degli inadempimenti qual è? Dice perché vai via senza aspettare gli altri? Eh ma gli altri non c'è. Eh no, ti deve assicurare, perché anche tu sei responsabile del carico che è stato fatto. È una vicenda che ha gettato, insomma, delle ombre importanti sul vostro settore, questo c'è poco da dire. Eh sì, più che altro ha aperto gli occhi soprattutto, anche se ce ne fosse stata la necessità ai malviventi, di far capire quanto viaggia sopra i furgoni blindati. E ci espone ancora di più, espone il nostro personale a dei rischi ancora maggiori.